Ma hey! Quali falsi miti di Minecraft conosci? Minecraft è un gioco molto ampio e variegato e nel corso degli anni sono nati tantissimi falsi miti. Personalmente, uno di quelli che mi dà più fastidio è il mito del pozzetto del deserto. Si dice che gli angoli del pozzetto del deserto puntino a quattro strutture diverse e appunto seguendo la direzione di questi angoli riuscirai a trovarle. Effettivamente, facendo la prova, è vero, si trovano delle strutture, ma questo vale per qualsiasi direzione e anche senza il pozzetto del deserto. Questo perché il mondo di Minecraft è infinito e le strutture sono tantissime, quindi prima o poi ne troverai per forza una. Un'altra leggenda simile è quella del girasole nel nether. Piazzando un girasole, infatti, questo punterà ad una fortezza. Anche in questo caso, anche senza girasole, andando in una direzione a caso, prima o poi una fortezza la troverete. Un mito diverso, invece, è quello secondo cui si possono curare tutti quanti gli animali. Alcuni animali, come il cane, il gatto e il cavallo, si possono curare, ma altri, come il maiale, la peccora e così via, non si possono curare neanche se diamo al loro nutrimento. E tu, quali altri miti di Minecraft conosci? Bye bye!